Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder. Questa volta portiamo uno squad builder completamente bronzo, una squadra molto ma molto competitiva, completamente bronzo, infatti molti di voi mi avete chiesto una squadra bronzo, io ve l'ho portata subito e soprattutto è composta da due giocatori in particolare, cioè il Bronze Robin e il Bronze Royce o perlomeno quelli che per me sono il Bronze Royce e il Bronze Robin. Quindi direi di partire subito a una ibrida, costa un po', ma i giocatori diciamo non costano tanto tranne uno in particolare, il bronze già impostato, in porta abbiamo Lampson, ma potete utilizzare comunque a vostro piacimento qualsiasi portiere bronzo della MLS statunitense. È un portiere che costa poco, comunque è molto buono, discreta velocità, buoni valori, soprattutto ottimi valori di tuffo e di riflessi che raggiungono quasi i 70, quindi è davvero un buon portiere. Poi, terzino destro, ho utilizzato Coplin, credo sia dell'Union Berlino, comunque vabbè è una squadra della Bundesliga 2, è davvero un buon terzino con un trinomio velocità, difese fisico secondo me è molto molto buono, decente, prezzo giusto per me, quindi secondo me questo è un ottimo terzino, quindi vi consiglio di provarlo. Poi, vabbè, difesa, troviamo Win, difensore centrale, è l'unico giocatore che comunque costa tanto, ma comunque potete sostituirlo con chi volete. Win, vabbè, penso il miglior difensore centrale del gioco, parlando ovviamente di bronzo, perché ha una velocità assurda e comunque valori di difese, soprattutto fisico, pazzeschi. Ma non c'è niente di invidiare il suo compagno di reparto, cioè Jean-Baptiste, che è meno veloce ovviamente, ma comunque come valore di difese fisico ci assomiglia molto, lui ha inoltre work rate basso-alto, quindi è sempre in difesa, e vi garantisce sempre copertura, costa non tantissimo, vabbè questo è un prezzo risalente a un bel po' di tempo fa, ma comunque non penso che costi lira di Dio. Poi, terzino sinistro invece io ho utilizzato, se non ricordo male, Haps della Zeta, molto buono, anche lui come il terzino destro, più o meno molto simile, caratteristiche simili, quindi provate anche lui perché mi è piaciuto davvero tanto. Poi ci spostiamo a centrocampo, troviamo come centrocampista centrale di destra, Gondorf, che viene da Gondor nella terra di mezzo, si tratta di un centrocampista davvero, davvero completo, che purtroppo non ha un tiro assurdo, perché se avesse un tiro maggiore, diciamo sui 60, sarebbe super completo come centrocampista, uno dei migliori bronzo sicuramente, però comunque sia, è un ottimo centrocampista centrale, mi ha fatto un gol e due assist in tre partite che l'ho utilizzato. Poi, centrocampista centrale di sinistra, ha utilizzato Basoer dell'Ajax, anche lui non è così completo, per esempio gli manca un po' di passaggio di tiro, però comunque sia, è un ottimo giocatore, tre assist in tre partite, sono molto buoni, comunque per un giocatore con 57 di passaggio, fisico molto buono, alto 1.85, quindi è parecchio alto, velocità discreta, comunque per un cdc, lui sarebbe un cdc e che costa poco. E finiamo il centrocampo con un C.O.C. veramente speciale, cioè Cernak o Cernak del Wanderers, forse non mi ricordo come si chiama la squadra, questo è un giocatore ragazzi da provare assolutamente, perché è un fenomeno, ve lo garantisco, sembra che abbia tipo 99 di agilità, davvero un driblomane pauroso, provatelo perché non costa nulla, si può dire, e vi garantisce, a me mi ha garantito due gol e due assist in tre partite, che secondo me sono dati paurosi per un C.O.C., provatelo davvero perché non ve ne pentirete assolutamente. Poi ci spostiamo con l'attaccante che è, se lo trovo al volo, Duke, che ho trattato, se non sbaglio, nelle bestie nascoste, forse nel primo episodio di bestie nascoste, questo è veramente un giocatore controcazzi, 5 gol in tre partite, più un assist, 250 crediti, provate questo giocatore, ha solamente la pecca di avere 35 di passaggio, ma non si sente assolutamente, e due stelle abilità, quello, vabbè, ovviamente si sentono, però comunque sia, questo è un finalizzatore della madonna, non perde mai il pallone, sempre in posizione, ha un fiuto del gol, veramente allucinante. Poi ci spostiamo con i due giocatori speciali, cominciamo con il Bronze Royce, Bronze Royce, si tratta di Conneche, che è un molto simile a Royce, come statistiche, ovviamente paragonate, da Bronze a Oro, velocissimo, con un discreto tiro, lui è mancino, se non sbaglio, no, è destro, è destro, poi mi ha fatto due gol in tre partite, uno su calcio di punizione, che li batte, direi, abbastanza bene, è un giocatore veramente da provare, con un'ottima agilità, che secondo me conta tantissimo in questo FIFA, quattro stelle piede debole, e alto normale di Warcrete, mentre il Bronze Robben è Visento infortunato, che ovviamente, ecco, dovete fare lo scambio esterno in game, così che Visento va da destra, e rientra, visto che è Mancino, e viceversa con Neche. Comunque, tiro molto buono per un Bronzo, in tre partite un gol e due assist, molto buona come media, per un'ala, considerando che comunque sono, quasi tutti i giocatori fanno gol in questa squadra, veloce, con un buon dribbling, peccato che entrambi non abbiano quattro stelle abilità, altrimenti sarebbero proprio, uguali identici a Robben e Royce. Comunque ragazzi, io vi invito a provare questa squadra, vi invito a provare questi giocatori alternativi, perché meritano tantissimo, sono uno, due, tre, quattro campionati, quindi comunque non costa neanche tanto come squadra, ripeto, al posto di Winner potete mettere chi volete, come sempre, raga, io vi invito a lasciare un bel like, a 300 mi piace uscirà un nuovo video, fatemi sapere nei commenti, intanto cosa ne pensate della squadra, se l'avete provata, se la proverete, eccetera, eccetera, consigliatemi qualche giocatore da fare, tipo, io pensavo a un Silver Ibrahimovic, che comunque me l'hanno chiesto in tantissimi, e magari se avete dei consigli sui giocatori, appunto, fatemeli, scrivetemi lì e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, io adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella raga! Ciao!